Di recente lei ha chiesto una riapertura delle indagini sul caso della morte di Pasolini perché proprio l'arresto, la cattura di Johnny Lozingaro in qualche modo riapre un vecchio capitolo non ancora approfondito. Dunque nel 2009 avevo richiesto la riapertura delle indagini sull'omicidio, riapertura ottenuta nel 2010, sono stati effettuati nel corso di 5 anni approfonditi i accertamenti da parte della Procura della Repubblica, soprattutto sui reperti custoditi dal Museo Criminologico. Per la prima volta ho ottenuto l'esame del DNA su quei reperti. Ora, quei reperti hanno parlato e ci hanno detto che ci sono tre personaggi ignoti presenti sulla scena del crimine. Non è stato fatto il DNA su Pino Pelosi, recentemente scomparso. Io ho chiesto alla Procura della Repubblica già da ottobre una riapertura basata su un DNA in particolare, che è una tracce matica rinvenuta sulla maglia pelle di Pino Pelosi, del sangue di Pierpaolo Pasolini, frammisto a un ignoto tre. Noi abbiamo chiesto con una consulenza di una genetista forense molto nota, la dottoressa Marina Baldi, che si approfondisca quella tracce matica. Attualmente è vero, c'è questo, si parla molto di Johnny Ozingaro, Giuseppe Mastini, devo però dire che agli atti della prima inchiesta non è emerso alcunché, quindi eventuali approfondimenti si dovranno fare in una successiva inchiesta. Il mio appello è rivolto alla Procura della Repubblica di Roma, che mi auguro che finalmente riapra ulteriormente le indagini. Quindi una cosa è quasi certa, Pelosi non era da solo? No, noi sappiamo che Pelosi non era da solo, lo sapeva anche il giudice del primo processo Pasolini, che era il fratello di Aldo Moro, il presidente del Tribunale per i minorenni, Carlo Alfredo Moro, lo abbiamo accertato scientificamente, vi erano altre persone, altri DNA presenti sulla scena del crimine. Ci sono nuovi scenari a questo punto che si confermano di aprirsi? Ma a mio avviso se noi abbiamo la prova che Pino Pelosi non fu solo quella notte e noi abbiamo anche dei dubbi addirittura che Pino Pelosi fosse presente quella notte all'idroscalo di Ostia e vogliamo fugare questi dubbi, soprattutto sulla testimonianza resa allora dal proprietario del ristorante, il biondo Tevere, che descrisse una persona totalmente diversa da quella che era Pino Pelosi, cioè descrisse un ragazzo biondo con i capelli biondi e lunghi e soprattutto poi sul testimone chiave dell'inchiesta legato alla banda della Magliana, del quale noi abbiamo voluto chiedere un approfondimento ulteriore. Secondo noi ci sono elementi per riaprire queste indagini, anzi è doveroso riaprire un'indagine perché dobbiamo una parola di verità sull'omicidio di una grande persona, di un grande artista quale Pierpaolo Pasolini. Questo è un capitolo molto interessante, cioè Pelosi avrebbe potuto incolparsi del delitto per proteggere qualcuno? Io non mi sono mai basato sulle dichiarazioni di Pelosi, non ho mai sentito Pelosi, Pelosi è stato sentito dalla Procura della Repubblica nel dicembre del 2014, prima della richiesta di archiviazione, gli elementi da cercare sono altri, gli elementi secondo me a distanza di 40 anni si devono basare su prove scientifiche perché sono quelle che devono parlare, la testimonianza è già ben difficile, anche se abbiamo trovato anche dei testimoni molto importanti. L'ultimo, faccio solo un esempio, è un giornalista che vive a Stoccolma e che cenò la sera del 30 ottobre con Pierpaolo Pasolini e che ha rivelato che Pierpaolo Pasolini era molto preoccupato. Quindi c'era una situazione sicuramente particolare, Pasolini era entrato in possesso di carte particolari e evidentemente c'era una volontà ben precisa perché queste carte non venissero divulgate. Entriamo ancora una volta nella Notte della Repubblica? Sì, entriamo ancora una volta, basta leggersi e andarsi a rileggere quello che Pasolini scriveva in quel periodo e che aveva scritto sul principale quotidiano italiano, Corriere della sera, per rendersi conto del motivo perché Pasolini poteva essere ucciso all'idroscalo di Ostia.